Continua ad allungarsi la lista dei parchi comunali cittadini di Pesaro che hanno una svolta nel senso della inclusività. Oggi ad esempio siamo al Parco Maestri del Lavoro in via Volontari del Sangue, zona Cinque Torri, dove viene di fatto inaugurata la nuova area inclusiva. Ad esempio vedete al mio fianco il pannello ludico sensoriale, una delle installazioni dedicate a tutti, disabili, normodotati, bambini di ogni tipo che possono divertirsi in questo parco, possono farlo con un'altalena inclusiva, possono farlo con un tavolo da picnic inclusivo, ma anche con panchine adatte alle carrozzelle. Un grande progetto, un progetto interforze tra amministrazione comunale, l'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare e il centro servizi volontariato. Assieme a loro anche la scuola Pirandello che questa mattina e non solo questa mattina è stata coinvolta in un percorso di sensibilizzazione al diritto al gioco e all'inclusione. Oggi finalmente riusciamo ad arrivare al traguardo che ci eravamo prefissi, cioè installare in un parco comunale dei giochi che possono essere usati da tutti in pratica, sia dai ragazzi abili, sia dai ragazzi disabili, ma non mi piace chiamarli disabili, magari fragili oppure abili diversamente. E finalmente siamo riusciti ad arrivare a questo traguardo grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha fatto la nostra UILDM nazionale, ha fatto suo questo progetto e ha chiesto a noi sessioni se volevamo partecipare a questa iniziativa. Noi come sessioni di pesa ci siamo subito rimboccati le maniche per poter avere i permessi, la possibilità, ci siamo rivolte al Comune, il Comune ha risposto egregiamente a questa iniziativa ed è felice di implementare in un parco come questo giochi anche per disabili. Il Centro di Silvizio per il Volontariato da sempre ha un ruolo fondamentale, quello di essere un po' da collante e da coordinatore tra le varie realtà associative della nostra provincia. In questo caso è riuscito a mettere insieme le esigenze di questo bellissimo progetto che ha presentato UILDM insieme alle realtà del territorio, quindi l'amministrazione comunale e la scuola, l'istituto comprensivo Pirrandello. Quindi quello che il CSV dovrebbe sempre fare è proprio questo, cioè essere l'occasione per mettere al tavolo tutte le realtà che hanno voglia di portare un progetto, qualcosa di innovativo per la nostra provincia e lo fa grazie ai volontari di tante associazioni e grazie anche ai nostri operatori di sportello che ogni volta voglio ringraziare perché è il loro spunto, il loro lavoro tutti i giorni che fa sempre la differenza. Quindi grazie a Francesca e a Luca.